Iniziamo con la domanda tecnica. In sala registrazione, di fronte a un microfono, è più difficile doppiare o cantare? Per me, cantare, indubbiamente. Nel senso che sono disabituato all'ascolto, in cuffia della mia voce. Per me è stata un'esperienza completamente nuova. In più, anche di fronte a un direttore del cantato, che è uno storico, un mostro di bravura, che quando ti diceva, falla come la faccio io, lui la faceva e tu dici, vabbè io vado a casa e se ne parla fra due o tre anni. E invece poi è stato anche lì, bisogna mettersi, fare, è stato fatto tante volte e alla fine è stato un buon lavoro. Però per me cantare è stato molto complicato. Beh, devo dire che io vengo da un background musicale, quindi anche di canto, ho anche doppiato altri cartoni animati, non della Disney, cantando, ma doppiare Pumba di fronte al maestro Brancucci, che non solo è il maestro che è, ma è la voce originale di Pumba, insomma, diventa avere di fronte a te l'eredità che ti dice come farlo, è stato abbastanza difficile. Poi, non so dirti, la cosa più difficile forse è stata Stonare, perché mi è stato chiesto di stonare e dopo anni in cui maniacalmente uno cerca di intonare alla perfezione ti dicono, no, Pumba ce lo siamo invaginato, stonato, Seth Rogen prende proprio un paio di stecche così, prendile. Come sarebbe, diciamo, la musica di Hans Zimmer sotto è stata difficile, ma all'effetto poi funziona. Cosa vi piace di più del personaggio o dell'altro? Ah no, a me il fatto che io ho la cosa di Pumba, che quando sbrocca, io proprio ho una passione per quelli che ti tengono, si tengono, si tengono, a un certo punto dicono, no, basta, non mi hai rotto le scatole. Questa cosa della rivalza dei più deboli è stata veramente una roba che mi fa la mia emozione. La cosa che mi emoziona il più di tutto il film probabilmente è questa cosa. A me c'è una cosa di Timon che fa ridere tantissimo, è che lui si spende nel convincere il mondo della sua grande sicurezza e quando poi, nel momento in cui capisce che ha detto una stupidaggine, un attimo prima di riprendersi, tradisce completamente questi sentimenti. Ad esempio accade quando io gli dico, guarda che quello è un leoncino! E lui dice, no, non è un leone, non è... Ah, un leone! C'è questo scatto tremendo e poi però ritorna, il Timon sicuro di sé. C'è queste uscite di verità che mi fanno veramente ridere. Voi il film del 94, la prima volta che l'avete visto al cinema, a videocassetta? Continuate con questa domanda, ormai è diventato una... Io non l'ho visto quello del 94, non l'ho visto all'epoca. E poi quando ho capito che dovevo vederlo, ho preso informazioni e ho capito che era... Insomma ho capito che aveva fatto Tonino Accollo, ho detto è meglio che non lo vedo perché sennò mi spavento e non ci vado nemmeno a incontrare questi della Disney. E quindi in realtà ho pensato di fare, adesso che esce questo con la voce mia, di fare una maratona con tutti e due i re leone messi vicini e poi chiedere sotto tortura se ho doppiato meglio io Tonino Accollo. E no, io invece l'ho visto al cinema, il film, e poi l'ho comprato in Blu-ray per mio figlio e se l'è visto a casa su uno schermone grande grande e quindi sono... ho le carte in regola. Grazie.